Non soltanto pizzo sui negozi, allo Zen i boss avevano in mano l'intera gestione delle case popolari, un immobiliare parallela insomma che si occupava di tutto, dall'assegnazione degli alloggi fino alle forniture illegali, alla vigilanza tutto nelle mani dell'organizzazione smantellata dalla squadra mobile alla fine di una complessa indagine. Il blitz scattato all'alba allo Zen 2 ha visto la collaborazione degli uomini del commissariato San Lorenzo e della DIA. Sono 14 le persone fermate ma le perquisizioni sono ancora in corso. La gestione del quartiere era capillare a cominciare proprio dagli alloggi popolari. Per ottenerli le famiglie pagavano direttamente gli uomini del clan che ai residenti dei 33 padiglioni dello Zen 2 imponevano poi anche l'acquisto di acqua e luce. Prezzi concorrenziali certo 10 euro al mese ma obbligatori per tutti e chi si ribellava rischiava non solo di restare a secco e al buio ma anche di finire fuori casa e di essere malmenato perché per le strade del quartiere c'erano anche le squadre di picchiatori pronte a convincere chiunque si rifiutasse di pagare. A fare i nomi ci pensavano le vedette. Dal capo Padiglione al capo Scala le indagini hanno rivelato una rete perfettamente organizzata che gestiva i condomini per conto di Cosa Nostra riscuotendo le quote e gestendo gli allacci. In un quartiere composto in gran parte di case popolari e in cui allontanarsi da casa per qualche giorno significa rischiare di trovarla occupata da altri, le cosche approfittavano anche di questo. Gli appartamenti liberi venivano infatti riassegnati dietro pagamento non meno di 15.000 euro ad alloggio. A capo di tutto sarebbero stati in due Franco Mazze e Giovanni Ferrara ma un ruolo di primo piano sarebbe stato anche quello di Antonino Pirrotta indicato come capo sensale e di Salvatore Vitale che si occupava invece degli allacci abusivi. Pedinamenti e intercettazioni telefoniche hanno rivelato un gran numero di estorsioni e intimidazioni. A dare il via alle indagini anche le denunce da parte di residenti che si sono ribellati alla racket dei condomini. A ricostruire le dinamiche del quartiere sono stati poi anche alcuni collaboratori di giustizia. Adesso l'attenzione si concentra sui libri mastri sequestrati all'interno di alcuni appartamenti delle persone tratte nel resto.